I giocatori per completare la rosa come Veseli, Gabriele Zappa, ma lui in verticale, Lapadula, apertura, Mancosu, stop con la suola e palla dentro a servire il taglio di Lapadula, arrivato con i tempi giusti, non è riuscito a impattare il pallone Gianluca Lapadula. Un po', non trova compagni, va a lottare Lapadula, commettendo fallo però, per i suoi ex tifosi Gianluca Lapadula. Velo di Nandes per far arrivare il pallone a Lapadula, decide di tornare indietro, poi in verticale Lapadula di prima, altra palla lunga, cercare Lapadula, Glick con le cattive maniere a commettere fallo. Nandes d'esterno Lapadula, attenzione adesso con Nandes che attacca lo spazio, Lapadula lo aspetta, lo serve adesso, la palla passa, ma riesce Veseli a chiudere, Roccaric non controlla, vediamo se riesce a ripartire il Cagliari, Lapadula, commesso fallo, altro fischio da parte di Aureliano, primo tempo estremamente, va a saltare Capellini, c'è fallo ma c'è anche vantaggio perché la palla è per Lapadula. Cercato Lapadula, che ammortizza, la palla filtrante a cercare il movimento di Lapadula! L'ex, eccolo il primo gol con la maglia del Cagliari in Serie B, non esulta per rispetto Lapadula, ma viene fuori tutta la sua cattiveria da attaccante, alla prima palla buona in area di rigore, segna Gianluca Lapadula, 1-0 per il Cagliari, cuore ingrato, però non esulta. Ancora Nandes per il cross, Lapadula taglia, davanti a Capellini, per poco, Radunovic, sicuro con i pugni. Esce Lapadula, tra qualche fischio, entra Pavoletti per il modulo alternativo, con Lapadula e Pavoletti insieme?